Potresti baciarmi come un delinquente? Un delinquente? Io bacio solo bene. Un debito di 14.000 euro? Ho più di 2 milioni sul mio conto e mi sento uno schifo. Forse sei raffreddata. Andiamo a Mannheim. Senza spray al peperoncino. Non posso andarci. Sai fare dei complimenti? Sì. Sai fare dei complimenti? Certo che so fare dei complimenti. Yalla! È molto che aspetti. Nessuno dovrebbe far aspettare una principessa. Ah, sei bella. E hai anche un bel carattere. Non sei bella soltanto come un fiore appena sbocciato. Tu sei bella anche dentro. Sei una vera principessa. Ok. Già. Facciamo finta di essere una coppia. I miei andranno fuori di testa. E questo chi sarebbe? Imbecil. E io realizzerò il mio sogno. Non può portarci via tutto il giro. Ok, provi a impedirmelo. Pago io per il tuo incontro. Bene. Ok. È normalissimo che una ragazzina viziata e pazzisca cominci a drogarsi e a voler diventare una cuoca. Io so che non potrei mai, mai e poi mai stare con uno come Osi. Non trattarmi così. Tu sei patetica. Bravo, vantene! Ovvero, vantene! Grazie a tutti